Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni in via 25 Luglio 87. La Polizia Postale di Firenze ha denunciato un 23enne della provincia di Salerno e un coetaneo della provincia di Napoli, autori di truffe distinte a danno di un uomo ed una donna residenti a Firenze. Grazie all'immediato avvio dei mezzi investigativi, la Polizia Postale è riuscita a effettuare il sequestro preventivo delle somme sottratte alle vittime, per un totale di quasi 80.000 euro. Nel primo caso di cui si è occupata la Polizia Postale, l'uomo anziano ha ricevuto un messaggio che lo informava di movimenti sospetti in uscita, indicando anche la somma dell'ipotetica transazione, sottolineando la necessità di bloccare questa transazione. L'SMS conteneva un link che riportava ad una falsa pagina di autenticazione in cui gli veniva chiesto di inserire i dati della sua banca digitale. I truffatori hanno utilizzato i dati inseriti dall'uomo per accedere alla banca e compiere operazioni per un totale superiore a 29.000 euro. La donna invece ha ricevuto una telefonata da un falso operatore, che la informava dell'esistenza di tentativi di entrare nel suo conto bancario da parte di hacker. Dopodiché le hanno mandato un link e l'epilogo è lo stesso. Le hanno sottratto in pochi minuti 50.000 euro. Tecniche avanzate di ingegneria sociale sono frequentemente usate dai malviventi che riescono a indurre in errore le vittime, creando ansia e pressione psicologica, facendoli intervenire subito perché preoccupate per il proprio conto corrente.